benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui per fare un video recensione di snake un po vari con tante novità e anche non novità però che noi non avevo mai provato e oggi siamo qui a provarli insieme a voi vi lascio tutti i link giù nell'info box da dove ho acquistato ma già ve l'ho detto con i discorsi video quindi per chi ha seguito anche il primo e il secondo episodio già sa dove io abbia acquistato tutte queste cose e quindi direi subito di iniziare ovviamente ho acquistato tutto io ma già ve l'ho detto già quindi andiamo avanti e vai pesca ok questo è proprio una box proprio quanti pezzi sono cinque si o tre pezzi da 34 grammi 5 pezzi 5 pezzi da 34,5 grammi hanuta con latte nocciola io sono curiosa di vedere come sono dentro ah sono così mi pensavo fossero a quadratini quindi ne apriamo inizio? beh ovvio porro pompo porro porro pompo wow wow che senti l'odore fatto così vuoi vedere? vedi un po? dice un po' c'è il mio nocciole attenta ma guarda sembra un po' nutella ma che l'odore? no proprio l'odore guarda beh io sono buone da nascondere no sai che mi sembra? il kinder bueno mmm è uguale ha questa crema dentro il kinder bueno no ma sono buonissimi posso dire una cosa? lo posso? no no vai vai posso dire una cosa? sono i hanuta quelli cioè sono i più buoni il tipo più buono questo è perché gli altri mi può sempre contare quello però questo è un mix tra kinder bueno è quello lì che a te non ti piace con la forma tipo di pane come si chiama quella cosa della ferreno? no e te la bireti bravo ci somiglia molto è un mix tra kinder bueno e quello è un mix tra kinder bueno e quello l'unico tipo di hanuta l'altro è un po' brutto però non ce l'ha dentro ah ma iniziamo bene bene ci sta ok voto da 1 a 10? ehm 8 si 7 e mezza 8 ci sta se lo vende tutto ma poi ne abbiamo anche altri meno male la morì non sapeva raga sei chissimi 2 euro dove erano? hello panda può sembrare una stupidaggine ma io li ho visti in tutti i video ho visto snack assai io stavo ogni volta così proprio come il stavo così bravo stavo così cioè i ragazzi li invidiavo proprio non ho mai invidato nessuno ogni volta che li vedevo cioè secondo me sarà piena un biscotto all'interno una crema di cocco ma vediamo erano buoni quando li provavo come i Come Ci come Leve come Magical Jewels ha dato che è un bollo le canzze è potele è benotame mostra questi episi non ci sotto questa è lei leografie No, sono sempre stato il mio sogno, ma mi spiace che siano così, non proprio a formare di panda. Tipo quel caso a prosciutto, no? Il biscotto è buono, perché un po' si mette tipo salato. Ci sta, è un po' troppo dolce però, però ci sta, è buono, sono buoni, sono buoni, sei, pure per me sei buono, però sono buoni, se mi piace il conco, sono buoni, vi riconsigliamo. Ma questa, questa mi sembrava, non lo so, forse, ma questo è uno dei video più belli, proprio di prodotti vari, scegli. Mi l'ho immaginata. Giotto, che poi ci hanno detto che c'è anche quello là, versione brownie, ma non c'era? Giotto alla nocciola. No, è della Ferrero. Sì, sì, sì. Ah, perché... Come so, com'è? Ehi, cosa, mi pare di fare lì. Ci deve stare quel cosa, eppure lo stavo cercando. Infatti io questo stavo cercando. Invece no, no. Non sarà più. Buonasera. Non fa che resi sto colando, ma non ricomando. Mamma mia. Vai, 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 vai. Apperra, apperra. Adano cincischi. Oh, oh. Tu devi uscire. Già da mangiare? No, 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 no. Allora. Allora. Tenere su. Ci somiglia un po'. A me non piace tanto la nocciola, ma questa crema dentro è buonissima. Forse lo sai io cosa avrei fatto? Uno strato un po' più doppio di biscotto, proprio di cialda. Eh, di cialda, sì. È vero, hai ragione. Mi fa ricaventare, è vero. Sarebbe buono. Questo è buono. Mamma mia, tre. Mamma mia. Mi stai emozionando. Sarebbe il terzo. È andato. E poi pure quello è Ferrero. Buono, mi piace. No, raga, buono, veramente. Magari... No, ragazzi, meravigliamo che ci fai. No, buono. Cioè, la nocciola è buona. A me anche quella Brownie è buona. Amma mia. Buono? No. Sette ci stai particolare. Sembra. Però ovviamente, tra tutti, sono molto più particolari gli ultimi due. Perché questa è la fine nocciola. È buona la parità. Sì, sì. Però a me tra questi tre... Hanuta. Io ti proporrei di provare qualcosa per sciacquarci la bocca. Ma ho paura che non te lo dico perché ho paura. È questo. È questo. Infatti lo sapevo. Eccolo qua. Per chi ha seguito il secondo episodio... Mamma mia. ...un dato avendo un video Tokyo... Della... Delle... Dulcesoro. Dulcesoro. Al limone! Deve, forse, confezione nera... Oro. Vediamo per fare gli occhi... Che lei so. Un dietro di compostore. Che mi aspetto, dime. Ma almeno d'ora no. Quando si presenta nell'esimo caso mamma. No, ma perché fanno queste cose? Cioè a me fa senso. Ah però è molto più buona. Ma quello non si potevamo mangiare. Ma io lo metti a sputare? Panno e calamelle. E frittella. E frittella uguale. No. Cioè in generale panno e calamelle. Non ve li consiglio. Cioè perché assolutamente no. Però questo rispetto all'altro. Ma vorrei capire se questa marca fa solo macarone. Ma spero di no. E' un po' più. Beh ma che se sta a spagna. No se spagna questo si. No mi piace. Ma si sente il limone però. Quei limone dolce. Proprio da caramelle e frittella uguale. Sesso sapore. Rispetto a quelli là. Un po' meglio. Un po' meglio. Però sinceramente proprio come marchio. Mamma mia. Se ne avessi trovata da qualche parte scappate. Proprio così. Raga. E' sceso tipo sei. Dopo un anno e mezzo ce l'abbiamo fatta. Questo lo trovate su un S-Pood. E' il Kit Kat Gold. Caramello. Ma questo è tipo caramello dentro. Ma che. Io voglio l'olore con me. Si chiama il cazzo. Si chiama il cazzo. Buona parola. Buona parola. Buona parola. Buona parola. Caramello. No. Lo sapevo. Sape Yanky Ken. Buona parola. Mi è venuto in mente. La ragazza. E' vero. Comunque ci sa una tart. Che si chiama. Caramel. Come si chiama quella Yanky Ken. Eh ma non mi ricordo. Però era sempre una tartina. Era arancione. Mannaggia. Miserica. AYAMY YAMMY FIT. Spezziamo il pane. Comunque è bello raga. Ho messo quasi caramello. Non mi piace. Anche non so di caramello. No. Si sente il caramello. Però è brutto. Non si dichi. No. Sei. Carino pure. Ho fatto pure il piacere. Pure i... Non è male. I baci perugina. Secondo me pure... Non è male. No ma non mi fa dire vuoi rispetto ad un'altra roba. Però... Cinque. Cinque. Cioè non è che è una posizione buono. No eh. Anzi no. No. Cioè è buono. Perché non è che è brutto. Non si può mangiare. Però no. Fai sapore con questo che dici. Pochi! Anche questi ragà. Tutti qua, noi facevano un... ...sperì! Sperì! Comunque sono dei pochi. Sono sempre orientati questi qua. Eh sì. Cookie'n cream. Ma che marca è vero? cioè raga che sarebbero i nicati italiani controllo organolettico sta di calda calda del ma se tu riesco a metterci il dito qua sotto per non sbagliarmi non sento il sapore tu lo senti tu ricordi per sé il sapore è brutto dammi cartone no ma io non riesco a capire torno la cioccolata non la sento no eh sento solo sta cosa rinde adesso è l'ignamma no 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 però si è da fare perché sennò c'è proprio amaro polegno no allora no le cialde dei gelati però un po' più abbrusolite lo stesso sapore proprio mi piace mi piace mi piace mi piace no no scade agosto però si sente la cialda però una cialda un po' strana non lo so questa risis puff questo secondo me è un riso soffiato secondo me questa è una bomba in tutti i sensi è una bomba è una bomba ma no stiamo scelerando perché questo è il quattro di me oggi questa mi porterà l'ingrazi no basta che non ci sono ancora il caramello perché mi è venuto proprio lo schermo come basta pure la live di ok 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 non si senza un po' buono odore bello salato io volevo appogli di salato vorrei aver fatto uno solo di cioccolato tu no invece a me piace così poco salato dopo tutto questo ci voleva un po' di salato ah c'è il cioccolato eh ma poco no buono non è il mio preferito perché sapete che a me i risis in generale ma non è il risis è pure taragli e però può pure dare anche dei risis proprio non mi fa impazzire però è buono io preferisco l'altro quello lì con dentro tipo come se fosse un po' il kitkat risis no tipo il lion rivisitato al risis a me quello raga quello mi fa impazzire buono dopo me lo finisco io questo e questo si buono a me un po' di 5 no a me non mi fa impazzire buono buonissimo ultimo questo non l'ho mai provato neanche io e lo sneakers bianco mamma mia bello grande spettacolo questo anche io lo so sei provato il slime e lo bianco uno uiii sembra una barretta vai eh questo secondo me merita buono mi fa buono mi fa buono mi fa buono cioccolato bianco buono anche se cioccolato bianco non è che si sente tanto mi fa buono mi fa buono mi fa buono non si sente quel contrasto dolce cioè il cioccolato con l'aragna ma così l'originale è una cosa invece qua si copre un po' no l'originale quello che conosciamo un po' è buono però questo è buono è buono io ti do un bel 7,5 io sei tipo rispetto al ria di questo io propisco più questo qua no io propisco più quello no ok ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto e devo dire che questo video ci è andata molto bene molto bene veramente molto bene a parte quei macaron ma è più no ok e noi potremmo prendere quella pistacchio immagino quella pistacchio meno male e quindi niente ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao